Le imprese familiari sono il tessuto dell'Italia, senza di queste l'Italia non esisterebbe, cioè sarebbe piena di buchi. Sappiamo che rappresentano più dell'85% delle imprese in Italia, e vuol dire tutte, dal piccolo negozio alla grande corporate che è presente in tutto il mondo. Cosa vuol dire? Che è una forza incredibile che non possiamo trascurare, che il Paese, il governo non può trascurare di attenzioni, perché gli imprenditori sono bravi, geniali, incoraggiosi, illuminati, ma devono anche essere sostenuti. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è quello che si dice sempre. Queste imprese stentano a crescere, a diventare grandi, ma il problema è molto legato alla prima generazione. È molto, posso dire che è facile, anche se non è veramente facilità, ma in Italia, anche adesso, le imprese che nascono sono tantissime. Guardiamo il fenomeno delle start-up, dei giovani, vediamo il fenomeno dei giovani che non trovano lavoro e che si inventano il lavoro e fanno crescere un'attività. Allora, vuol dire che c'è uno spirito imprenditoriale come quello degli esploratori, ce l'abbiamo nel nostro DNA. Il problema è farle andare avanti, non è un bisogno che si ferma alla prima generazione o comunque al fondatore, deve essere portato avanti e è lì che è dove ci concentriamo e ci dobbiamo concentrare ad aiutare, a sostenere. Perché la continuità, la continuità nelle generazioni, la continuità negli anni e posso dire anche nei secoli, ci sono alcune aziende che hanno più di due secoli, non sono tante ma ci sono, rendono, ti danno la sicurezza e la garanzia che certi valori siano portati avanti. I valori dell'imprenditore privato è la lungimiranza, il guardare al di là della propria esistenza, tra virgolette, è il passare dei valori che siano coraggiosi di costruzione, di qualcosa di cui essere orgoglioso ma anche utile per gli altri. Come un imprenditore ha un'azienda o un'impresa un po' numerosa, un po' più grande, sente subito la responsabilità delle persone che ha con sé, ma lo sente immediatamente, da quello che ha 15 dipendenti a quello che ne ha 3.000. E questo è qualcosa che non esiste nelle altre corporation, perché il vertice delle corporation grandi, multinazionali, eccetera, non è legato personalmente, è legato per altri modi, per altre modalità. Ecco, questi valori sono innati e sono così preziosi che vanno sostenuti. E quindi l'impegno che ha anche IDAF è l'impegno di dare, quindi è tutto un luogo di incontro per gli imprenditori familiari e dare loro tutte le, se vuole, anche la capacità, la formazione anche per le nuove generazioni a prendere questa eredità, che è molto scomoda, non è solo un privilegio nascere in un'impresa di famiglia, è anche una grande responsabilità e portarla avanti sempre per le generazioni che verranno, cioè questo senso di continuità. In inglese si dice stewardship, noi non ce l'abbiamo la parola così, ma insomma vuol dire proprio te lo prendo, lo custodisco e lo ridò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.